Io vorrei sapere come diamine ho fatto a essere così stupida! Noi non ci conosciamo, ma io sento che tu debba sapere ugualmente la realtà dei fatti. Tammy, mi è venuta un'insopprimibile voglia di imparare a fare a maglia. Non è che vorresti insegnarmi? Alettara! Che se unisio ha scelto te, invece di tua cugina Elena. Un motivo ci sarà pure. Aia, fra vai, frattura! No, frattura no! Frattura no! No! Non voglio andare neanche a c'è posta per te! È bello, c'è posta per te! Ma la definibile è tanto! Non voglio di conquistare nessuno! Il destino delle donne è difficile. Anzi no, la parola giusta è l'altra. Il destino delle donne è complesso. Nulla di semplice, nulla di lineare si offre mai alla nostra anima. Ma soprattutto, Elena avrebbe mai avuto la mia stessa lungimiranza quando ho deciso di fondare Cartagine sulla palude africana? Io non ho avuto paura proprio di nessuno. Mi sono finta, sola e spaventata. Li ho ingannati tutti. Salvando contemporaneamente il regno e la vita di mio figlio, dell'Emaco. Let's go, girls! Ecco, stai pur sicura che questo non lo scriverà mai nessuno su di te. Ciao! 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 Ciao!